Sì, lo so, amore, che io e te, forse stiamo insieme solo qualche istante. Sì, stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana, già lontana. Lo che considero di essere uno dei maggiori motori in ciclismo. Il 19-year-old talento, Gian Ulrich, world champion, Gian Ulrich, world champion, Gian Ulrich, world champion in ciclismo. With a single attack, this young man gets Lance Armstrong and every other champion that entered the race today. Now it's done, Gian Ulrich, Olympic champion, Sydney 2000. He shows up to the Tour de France, in shape, and he's the favorite. And our starboard network. Grazie a tutti.